musica 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 ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Rhyme and Legends esattamente a vostra grande richiesta perchè vi piace quindi continuiamo con piacere ma ho notato una cosa gli scheletri sarebbero la difficoltà del livello si forse si ah quindi due scheletri e medio no? questo medio aspetta vai allora prendi la moneta ciccio sincronia totale ahio io non so facciamo che ti do la spinta ciccio no in aria tre ore a colpire allungati grande ti sei allungato come niente come non dirlo meglio non dirlo pia lui pia lui pia qua il carciofo che cazzè la barba pietra mi raccomando sei andato leggermente in anticipo leggermente veloce veloce non lasciarmi solo Johnny non lasciarmi solo aspetta ora si gratta 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 picchia vado che frane sia senza pensieri la tua vita sarà mi è venuto in mente non so perchè allora qui stai attento nel senso devi tagliare lui e devi prendere lui ma andamoo se li tagliare entrambi aspetta allora vediamo poi che cosa fai il doppio salto con un jeans nascosto che carino aspetta aspetta non tagliare c'è il segreto segreto ma in ogni livello c'è un segreto ma più di uno attento attento mi se ne so mi lascia resum aspetta ce la faccio 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 ok oh ma è scelto dipend i 10 millisecondi orari c'è uno c'è uno c'è uno prendete me è fatta mica Johnny ma non sono un po' potenti siiamo veramente abbiamo saltato un sacco di cose vabbè abbiamo saltato quelli viola e tu tene vai a quel paese Dove va? Devi guardarvi il tuo Brutto ceffo Taglio, sì Devi tagliare per fare questo Uno Due E pillo la monetona Yeee Oddio No, ma no Secreto No, no secreto Aspetta No, non ce ne sono segreto Qua c'era un segreto A sinistra Qua l'acqua Per forza È evidente Perché si vedevano, diciamo, le frasche che rascondevano un po' di roba Ah, 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 ah Salta, baby No, dalti la spinta così Tak Ok No, se lo devi fare No Te lo girare tu Vai Vai, vai Ma like, picchia Ottimo 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 Questo per chiedere in due Se fossimo stati in uno Cioè se fosse stati in uno Si, 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 lo so Si potrebbe fare tranquillamente Tak, 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 tak So più, asometto Carlo. Questo gli da schiaffi Il buca d'occhio Allora, tu vai sotto e lo sopra Per favore non ti mozzicarò il culo Due ne mancano e finiamo tutto Al cento per cento Sono morto anch'io Veloce 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 Io ho il cuore No perché l'acqua ti fa morire Completamente Oddio mio Ti sto facendo Culo Salvami salvami baby Guarda ha pure i cosi I schiavi Ci manca uno Ci manca uno Aspetta Vai a sinistra Perfetto Per forza la devi andare No avanti non ci andiamo Ti prego dimmi che non ci stiamo saltando qualcuno Perché saltare l'ultimo è veramente triste Ma se lo stanno portando via Sei morto Ma se lo stanno portando via Mori pure tu Perché si è portato quello Qua sotto secondo me Quello si è portato Sì mori pure tu Devo fare talmente tanto veloce Da poter prenderlo Sì sì Allora corri a tutto sfiano Ok Pensavo si potesse recuperare troppo No ha capito Bastardo E quindi è per forza di cose Devi prenderlo Perché sennò Io l'abbiamo fatta più Sì Tutti tutti Mi calmo ok Ok l'abbiamo presi tutti Dove mi fare Dove mi fare Pio 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 C'è soglia Coppa d'oro C'è un po' C'è un po' Quello è Trova a tempo Forse Però lo facciamo Il prossimo episodio In questo episodio Andiamo a fare un po' Di minigiochi Ci sto ci sto Ci sto Ma i livelli musicali Non ci sono Sì Non sbaglio è quello Nel senso che non li avevo sbloccati Non sbaglio è quello 15 ore prima della fine della sfida Se non sbaglio questo è online Spenso ti scelgo Tutti gli altri giocatori del mondo Fego E il tuo risultato Perché ancora non abbiamo iniziato Non abbiamo fatto neanche una prova Quindi si salta Aspetta questo eh Il dojo Prendili Prendili in fretta E come si inizia? Così Semplice semplice Non mi avvicinare Perché sono mezza orbo Corri corri Prendi 200 l'un Più in fretta che puoi Vini Varmin Tu non ci sei Non ti moca Nirvana Katia Sì posso Forse siamo assieggianti Andiamo assieme Tipo chi fa È facile Ma che è fa culo No non è facile Piali tutti Devo fare lo schiantazzerra Villa Che fanno Sparano Non hai presa una tu All right Perché tu sei più alto Quindi Rompì Ottimo Direi Caspita Se ne va a rompere Ero convinto Che passandoci sopra Niente Adesso Adesso Alla sinistra Allora Che fai Ops Sono caduto Dove Dove sono? Ah non ci sono più io Eh io come cazzo va Come vai là sopra tu? Ah è tipo un macarazzo Lo sapevo Fai la sospensione Ottimo Lo sapevo Non manco io Ma questo l'avrei fatto Te l'avrei detto Bravo Ma no Ma hai preso Vabbè sì però Ho perso un po' di tempo Vabbè hai capito Ah è finito Hai finito Cioè hai preso 201 Che è tempo di merda Eh 49 secondi C'è chi ha fatto 2 minuti e 57 Ma ha battuto Sì Abbattuto Avevo letto 25 secondi Non so perché Scarsissimi Ottimo Ottimo No di nuovo No 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 Basta né Basta È stato libero Figa Ci vediamo al prossimo episodio Ci vediamo al prossimo episodio Con altri allettanti minijoki Sfida a tempo E livelli Vedremo anche di farvi Qualche livello Il livello musicale Che sarà probabilmente Nel prossimo video Sì Quindi vi salutiamo E vi abbracciamo Se il video vi è piaciuto Pollicino Vi ricordiamo che abbiamo Anche aperto la pagina Twitter Sì Sì Followateci Che bello dirlo In descrizione troverete Tutti i link A vostra disposizione Piccateci E automaticamente Vi comparirà la pagina Twitter Facebook E no 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 Solo pubblici Solo pubblici sì E mettete follow Mettete mi piace Mettete giugie amici Tutto Ciao